Ancora controlli della Polizia Municipale per garantire il rispetto delle norme anti-covid. Sotto la lente di ingrandimento degli agenti è finito un locale assaione di vendita e somministrazione di prodotti stranieri. La pattuglia, entrata all'interno dell'esercizio, ha effettuato un controllo anche nel retro dove si trovavano due persone che consumavano alcolici sedute ad un tavolino. Altre due persone erano invece all'esterno, davanti alla vetrina, sempre intenti a bere. Tutti gli avventori di nazionalità estera sono stati identificati e sanzionati, come previsto dalle disposizioni attuali. Sanzionato anche il dipendente del locale, che è stato chiuso per cinque giorni. L'attenzione si focalizza anche sui parchi e ovviamente nei luoghi dove si possono creare assembramenti. Per quanto riguarda il controllo su strada, il richiamo è a utilizzare le cinture. Sentiamo perché. Dato anche lo stato in cui ci si trova, quindi lo stato psicofisico che si trova nelle persone, di attenersi alle norme di comportamento, di usare sempre le cinture di sicurezza e i dispositivi auricolari, eccetera, in alternativa della mano destra per usare il telefonino.